Supernar 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 Ciao a tutti dai collezionisti in questo nuovo video siamo andati alla Lidl e abbiamo preso questi stickers abbiamo preso la casetta poi abbiamo preso Aspetta, aspetta, spiega bene se vai a fare speso alla Lidl ti danno con 15 euro di spesa mi pare una bustina di stickers già l'anno scorso abbiamo fatto la collezione dei puffi se avete visto il video precedente ci avevamo messo quella dei puffi andatevi a vedere ecco poi queste cose qui cosa hai fatto le hai comprate a parte no? questa praticamente è una scatolina dove dentro tu tu lo apri si vai la fai allora c'è un giochino e qua poi si apre qui si apre qui e qui praticamente dentro gli metti questi stickers che sono praticamente delle frutte e della verdura questa volta oggi noi vi faremo vedere ad aprire le nostre bustine no fai vedere anche l'altro sacchettino prima questo è per contenere i doppioni se tipo uno trova un doppione lo mette qua dentro si perchè le bustine sono chiuse quindi non sai che cosa ti capita vero? si se poi sei fortunata che quando vai all'idol c'è una signora davanti a te che ti da le bustine vero? che lei non le vuole allora noi abbiamo sei abbiamo intanto un personaggio già aperto già aperto speriamo di non trovarne un doppio abbiamo sei bustine sei bustine di stickers e le apreremo insieme a voi adesso apreremo le nostre bustine in diretta per vedere che cosa c'è dentro vai vai con la prima abbiamo trovato una bella carotina oh bella vai con la seconda ok la seconda c'è un'altra carota nooo doppia vabbè poi facciamo gli scambi vediamo cosa c'è un'altra carota no vediamo cosa c'è cosa c'è cosa c'è sono curioso nooo c'è quattro stickers abbiamo e due doppie c'è veramente che sfortuna dai ecco la quarta aspetta 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 la fai la banana la banana ciquita banana bella vuoi fare vedere questa che cosa è questa che cosa è non si capisce se è un cacco o un una mela un pomodoro secondo me è un pomodoro vai con l'ultima ragazzi l'ultima carota ancora ragazzi abbiamo tre carote va bene adesso andiamo a inserire nella nostra scatolina gli sticchi e poi inseriamo a questo punto puoi già far vedere in questo sacchettino puoi mettere già le carotine due carotine le mettiamo nel sacchettino e questa che è doppia la mettiamo nel sacchettino perché adesso poi a scuola a scuola facciamo gli scambi facciamo vedere la nostra scatolina abbiamo posizionato i quattro personaggi che abbiamo e proseguiremo nelle prossime settimane se riusciamo ad averne con gli scambi o da qualcuno e vi faremo un altro video e faremo eventualmente un altro video se questo vi è piaciuto cosa devono fare? mettete un like su i collezionisti salutiamo ciao